In Borderlands 3 avevamo la Sanctuary 3, in Borderlands 2 avevamo la Sanctuary. E cosa abbiamo in Tiny Tears Wonderlands come hub principale? Come funziona? Abbiamo Fulgibriglia, ma è impossibile che questa intera città sia un hub. È troppo grossa. Quindi, dove troviamo le varie cose più utili presenti in questa città? Ecco dove. Principalmente sono tre i luoghi dove troverete le cose più importanti. Inizialmente, la maggior parte delle volte, vi troverete in questa posizione di fianco al portale che vedremo in un altro video perché è una funzione molto importante e nuovissima. Troverete poi le classiche tre macchinette e la cassa delle chiavi dorate che vedremo anche quelle in futuro. Poi, prendendo questa salita a sinistra, quindi dal portale sinistra, troverete il Litsys Fitsys che è la seconda parte del hub. Qua dentro potrete trovare la macchinetta del cambio rapido, potrete trovare la cassa in cui vi mettere i vostri oggetti e che saranno condivisi tra tutti i personaggi. Troverete la macchinetta del loot perduto che quindi vi butterà fuori tutto il loot. Tutti questi li vedremo poi nel dettaglio in altri video. Una volta che avrete visto anche tutto questo, possiamo di nuovo uscire e manca un singolo e ultimo luogo. Il singolo è un luogo che è un pochino più difficile da raggiungere. Infatti, invece di far purtroppo il giro, dovrete allungare un po' la strada e passare di qua. Perché qui troverete l'ultima cosa, la forgia. Alla forgia troverete due cose importanti. La prima sarà qui, dove potrete comprare gli SDU per aumentare lo spazio della vostra banca, del loot perduto, delle munizioni delle vostre armi, eccetera. E più avanti, quando andrete avanti nella storia, ci sarà un qualcosa, quel mezzo, che vi permetterà anche di cambiare l'enchant che c'è sulle armi al costo di una certa risorsa, di cui parleremo in futuro. Principalmente è tutto qua quello che vi può servire come hub. Tutto relativamente vicino, a parte per la forgia, che l'hanno allontanato un po' troppo dal mio punto di vista. Comunque rimane più piccolo della Sanctuary in Borderlands 3.